Buonasera carissimi amici, sono al passo della bordala dove stanno facendo un raduno Citroen e subito, prima che arrivi il buio, insomma era doveroso fare un filmato a questo spettacolare furgone sapete io sono un amante dei furgoni, giustamente il canale del Marvin era doveroso documentare questo spettacolare furgone, un Citroen HE, è davvero spettacolare, carissimi amici insomma io quando vedo un furgone d'epoca insomma mi piace molto, vi faccio vedere un po' di dettagli insomma purtroppo la luce è quella che è ormai tramontato il sole guardate qua carissimi amici davvero spettacolare questo Citroen HE, qua non c'è nessuno che mi può dare una illustrazione però insomma facciamo i complimenti innanzitutto al proprietario che chiaramente è veramente spettacolare furgone veramente un furgone bellissimo da vedere, tirato al nuovo, tirato al lucido, splendido era doveroso appunto fermarmi su questo furgone carissimi amici qua il Marvin vi sta documentando questo spettacolare Citroen HE, guardate qua nei dettagli meritava il filmato, una telecronaca qua, raduno di passo della bordala e possiamo filmare qualche dettaglio di questo HE, insomma la gente qua è andata a cena il furgone è arrivato da poco guardate qua carissimi amici facciamo appunto i complimenti al proprietario spettacolare appunto Citroen non so se lui certo si poteva farla di giorno questa ripresa ma il Marvin non è che sta qua anche domani accontenziamoci carissimi amici vi ho fatto vedere questo spettacolare furgone splendido guardate qua la sua bellezza totale carissimi amici vi sto documentando questo spettacolare Citroen HE davvero fantastico carissimi amici qua il Marvin vi saluta vi ha fatto vedere un po' di dettagli siamo a un raduno qua in Trentino di vecchio Citroen guardate qua carissimi amici valeva la pena appunto che il Marvin è appassionato appunto di queste cose qua tanto i DS dai più o meno li troveremo sempre guardate qua i dettagli la pubblicità di questo HE spettacolare carissimi amici qua vi saluto dal passo della bordala insomma il filmato lo abbiamo portato a casa poi dirò al proprietario anche che ho fatto il filmato davvero spettacolare insomma il Marvin è l'unico filmato che ha fatto qua questo raduno insomma su questo furgone insomma dovevo portarlo a casa carissimi amici vi saluto